Laura. Laura che significa immortalità. La ragazzina parla con Dio? Deve avere qualcosa che non fa. La tua vita non sarà mai tua, Laura. Sarà quello che ordineranno gli altri. Laura, saluta il tuo futuro sposo. Vuoi diventare una maestra? Io non so scrivere. Oh, Laura, ti voglio presentare la persona che più amo al mondo. Il mio fratellino. Non ti vuoi innamorare? Provare l'amore? Dio ha altri piani per me e ho paura che tu possa distrarmi dal mio cammino. Laura, una vita straordinaria. Lunedì alle 15 e 15.